Gentile pubblico buonasera, la direttrice artistica di Popo Sofia Lucrezia Ercoli mi ha chiesto di fare una introduzione generale all'opera di Bergman e in un secondo momento di parlarvi di un inedito bergmaniano che Lucrezia ed io stiamo tentando di pubblicare con una nota a casa editrice italiana. Con obbedienza dunque procederò secondo queste regole di ingaggio. Come autorevoli studiosi già da tempo sostengono, la decima musa, la musa cinematografica, riunisce in sé le qualità delle nove sorelle. Dette in altre parole, un film, quale che sia il suo esito artistico, deve essere considerato come un testo dalla sintassi plurima e multifattoriale che non solo richiede, ma addirittura esige di essere letto e quindi interpretato alla luce di un ben più vasto orizzonte culturale. Ora, questa affermazione, se esiste un cineasta per il quale questa affermazione è valida, direi in modo pressoché assoluto, questi è senz'altro Bergman, il quale nella sua vastissima produzione cinematografica, nel catalogo abbiamo oltre i 40 titoli, ha messo a partito una impressionante varietà di mezzi espressivi che vanno dalla letteratura alla filosofia, dalla musica alle arti figurative. Allora, se così stanno le cose, il mio, la mia più che un'introduzione, sarà un invito alla lettura dell'opera di Bergman. Esiste, mi chiedo, nella sua vastissima produzione letteraria, cinematografica, esistono dei frammenti capaci di coglierne in una rapida sintesi, se possibile, il baricentro concettuale della sua arte, della sua spiritualità, del suo magistero? Credo di sì e che questi due frammenti siano rispettivamente il prologo e l'epilogo di Fanny e Alexander. Una vera e propria opera mondo, il testamento spirituale del maestro svedese, come giustamente è stato detto, un rutilante arazzo, per usare le parole di Bergman, dal quale ciascuno di noi può trarre ciò che vuole, un'opera pensata per la televisione, la versione originaria infatti dura oltre cinque ore e mezza, Bergman ne trasse una versione per il cinema di poco superiore alle tre ore, che nel 1984 vinse ben quattro premi Oscar, un autentico primato per un film straniero. Vediamo allora insieme il prologo e l'epilogo di Fanny e Alexander e poi lo discutiamo insieme. Ecco, sono persuaso che le due clip che abbiamo appena veduto colpiscano già per la loro bellezza estetica, proprio nel significato epimologico di questo aggettivo, dal verbo aizzanomai, cioè percepisco con i sensi. Ma oltre a questo il prologo e l'epilogo costituiscono, come dicevo, un testo davvero complesso e raffinato, la cui lettura forse ci può permettere di accedere all'officina mistica, per così dire, dell'opera bergmaniana. La mia interpretazione di questi filmati avverrà sulla falsa riga di uno splendido racconto di Elsa Morante, che, come vedrete subito, ha singolari analogie con i due filmati. Il racconto a cui faccio riferimento si intitola Il gioco segreto ed è uno dei più commoventi apologui di sempre sul teatro, sulla sua capacità di creare illusioni, artifici incantesimi, soprattutto sulla sua capacità di trasformare in oro la vile argilla di questo mondo. Protagonisti del racconto sono tre fratelli, Isabella, Roberto e Giovanni. Sono tre rampolli di un'antica, ma ormai decaduta, famiglia nobiliare. Trascorrono i loro giorni all'interno del palazzo a Vito, un edificio che, al di là dello splendore delle linee architettoniche, mostra ormai evidenti i segni del disfaccimento. Irreprensibile, terribile, anzi, custode di questa autentica casa di morti, divinità ctonia, anzi vera e regina della notte, e vedrete poi come questo primo riferimento al flauto magico di Mozart risulterà essere tutt'altro che peregrino, dicevo custode inflessibile dei tre fanciulli è la Marchesa, una donna che si disinteressa dei figli, concentrata com'è a stendere il bilancio ormai dissestato della famiglia. Non mette conto parlare del Marchese, un uomo del tutto anodino e privo di personalità. Un giorno il fratello minore, Giovanni, scopre nella biblioteca di casa libri di cui ignorava persino l'esistenza. Si tratta di romanzi cavallereschi, popolati da draghi, stregoni, cavalieri e dame. Ne ha tal punto conquistato da rendere partecipi della sua scoperta anche i fratelli, e i fratelli a loro volta ne sono a tal segno contagiati da decidere di rappresentare, di mettere in scena di notte nelle loro camere le avventure che di giorno leggono nei libri. Nasce così, ecco finalmente spiegato il titolo del racconto, un gioco segreto. Scrive la Morante, fu così che i tre fanciulli scoprirono il teatro. I loro personaggi uscirono del tutto dalla nebbia dell'invenzione, con suono d'armi e frusci di vesti. Acquistarono un corpo di carne e una voce, e per i fanciulli iniziò una doppia vita. Una notte, sopraffatti dall'incantesimo, i tre fanciulli decidono di di non rappresentare la scena nella loro camera, ma di uscire fuori, di entrare nel salone della caccia, così chiamato per via di un affresco a soggetto venatorio. Orbene, l'immaginazione è sfrenata. Ai loro occhi sembra quasi di vedere staccarsi dalle pareti agili e veloci levrieri che inseguono lepri cinghiali seguiti da battitori, da cacciatori e da cavalieri. Ma è sufficiente un cigolio della porta, nel prologo che abbiamo visto è sufficiente il raschio del carbone gettato dalla domestica nella stufa, cigolio della porta a cui segue l'entrata della Marchesa perché l'incanto va ad infrantumi. Conclude la morante, gli alberi e i cavalieri si rigidirono senza più dimensioni e un silenzio polveroso entrò nella stanza. Alla luce delle candele non c'erano più che tre brutti fanciulli. Il racconto della morante oltre a essere va da sé un gioiello letterario è, come penso, una profonda riflessione, per citare il titolo del primo romanzo della stessa morante, sulla menzogna e sortilegio del teatro sul suo statuto intrinsecamente duplice, di cui è paradigma la doppia vita condotta dai tre fratelli, una vita diurna trascorsa sotto lo scettro ferrigno della madre, una vita notturna dedicata al gioco segreto. Da qui allora una prima conclusione. Non ci sarebbe la scoperta del teatro se non se ne avvertisse la necessità, una necessità che a sua volta nasce dalla amara consapevolezza di un deficit, di una mancanza, di una radicale infelicità di cui nel prologo sono simbolo la casa deserta e la mano di Alexander che sfiora un vetro su cui il gelo dall'esterno ha ricamato bizzarri arabeschi. Dalla amara consapevolezza soprattutto dello scacco ineluttabile che conclude la vita di ciascuno. Il filmato che abbiamo visto è la riduzione cinematografica, nell'originale vi è anche un paio di secondi in più che mostra la morte nascosta dietro a una pianta mentre trascina sul pavimento la falce messoria. Dunque a questa prima conclusione ne segui direi una seconda e forse ovvia. Il teatro, ma il discorso mi pare potrebbe essere esteso all'arte tutta, scaturendo dal dolore si fa consolazione, ma diviene tale soltanto nel momento in cui lo rappresenta quel dolore, permettendo così allo spettatore o al lettore di venirne in contatto e di vedere il mondo nella sua datità bisognosa di senso. La parola teatro deriva infatti dal verbo greco zeaomai, che significa sì vedere, ma non tanto con gli occhi del corpo quanto piuttosto con quelli della mente, della fantasia, dell'immaginazione. Dunque la storia dei tre fratelli, di Alexander e di Bergman, che scoprono il teatro per affrancarsi da una vita che collima pericolosamente con la morte, si trasforma essa stessa in un teatro capace di rappresentare e quindi di mostrare il tragico originario. E nel prologo che abbiamo visto il tragico originario, l'epifania del tragico originario avviene immediatamente, anche se ben camuffata. Avete notato come la macchina da presa all'inizio inquadri un cartiglio che sovrasti il teatrino delle marionette di Alexander, teatrino che per inciso è una fedele riproduzione del teatro regio di Copenaghen. Orbene, sul cartiglio è riportato il seguente motto, non solo per la gioia. Dunque, nel novero delle dramatis persone che si agitano sulle polverosi asse del boccascena, dobbiamo conteggiare anche il dolore e segnatamente il dolore che deriva da quella radicale mutilazione che è la morte. Fanny e Alexander nel film perderanno presto il loro padre Oscar. A questo punto allora si affaccia un sospetto e se fosse proprio l'ossuta, la scheletrica signora il capocomico, se fosse lei e soltanto lei a scrivere il copione, a decidere quali battute debbano pronunciare gli altri attori, quali gesti debbano compiere pur lasciando loro la sovrana illusione di essere liberi. Il trionfo finale della morte non è forse già implicito nel modo con cui termina ogni rappresentazione teatrale, vale a dire la calata del sipario? Certo, all'inizio dell'Enrico V di Shakespeare, il prologo personificato afferma che un palcoscenico, anche se di modeste dimensioni o addirittura di dimensioni minime, quale può essere il teatrino delle marionette, può contenere i vasti campi di Francia e popolarli con l'immaginazione, con schieri di fanti, di armigeri e di cavalieri, ma domandiamoci cosa resta dei vasti campi di Francia quando il velario si chiude, le luci si abbassano se non soltanto buio e silenzio. Certo, si potrebbe controobiettare che terminata una rappresentazione teatrale, ne può iniziare una nuova senza soluzione di continuità, senza remissione alcuna, come sembra alludere l'epilogo del film, dove la nonna legge ad Alexander che si è accoccolato sul suo grembo un passo tratto dall'opera teatrale di Strindberg, Il sogno, il testo che più di qualsiasi altro ha influenzato per sua stessa ammissione il pensiero, l'opera, l'arte di Bergman. Una citazione da Il sogno che conviene riprendere perché condensa in poche fulminanti parole ciò che chiamiamo con realismo magico. Legge la nonna da Strindberg tutto può avvenire, tutto è possibile e probabile. Tempo e spazio non esistono, su una base minima di realtà l'immaginazione disegna motivi nuovi, un misto di ricordi, esperienze, invenzioni, assurdità e improvvisazioni. Anche questa controobiezione però dischiude ad un attento esame la desolante prospettiva di un vicolo cieco, di una eterna partita scacchi, per prendere un'altra immagine iconica su cui poi dopo di me altri e con maggior plettro vi intratterranno. Ma altre domande a dir il vero premono. E se invece della morte fosse la vita la vera nemica della illusione teatrale e dell'arte tutta? Arte che tenta di gareggiare con la vita, di raffigurarla, che tenta addirittura, somma iubris, somma tracotanza, di vincerla, di soverchiarla. A questa amara considerazione non giunge forse Prospero in quello che, insieme alle illusioni perdute di Flaubert è forse il dramma di tutti i disincanti, e cioè la tempesta? Ricorderete senz'altro il monologo che suggella questo straordinario dramma Prospero, il negromante, che legge nel libro degli elementi, che imprigiona gli spiriti, che addirittura può risuscitare i morti e alla fine si spoglia del suo potere e si presenta, semplice, povero uomo, al pubblico e dice ormai i miei incantesimi sono finiti e la mia fine sarà disperata, a meno che io non sia soccorso da una preghiera. Ecco, le parole di Prospero forse ci consentono di compiere un ulteriore e forse decisivo passo verso la meta che ci siamo proposti. Veramente disperata sarebbe la nostra vita, come dice Prospero, se non fossimo soccorsi da una preghiera, da qualcuno che chinandosi su di noi ci prende per mano, ci aiuta a rialzarci e proseguire così il cammino della vita. Intendiamoci, nessun regista come Bergman è riuscito a dire meglio la nascita dell'amore tra gli esseri, il suo fiorire ma anche il suo rapido avvizzirsi e corrompersi. Con la mano ferma e implacabile dell'anatomo patologo Bergman ha scoperchiato i putrescenti verminai che non di rado si nascondono nelle relazioni tra genitori e figli, tra fratelli, tra coniugi. Non solo, con una lucidità a tratti addirittura implacabile ha mostrato come nessun dio provveda agli uomini e come questo in cui siamo stati gettati sia il peggiore dei mondi possibili eppure e nonostante tutto il centro dell'opera di Bergman tiene e questo centro è l'amore. Nella autobiografia intitolata Lanterna Magica pubblicata in Italia dalla Garzanti, il maestro svedese racconta come questa intuizione, l'amore centro di tutte le cose, come questa intuizione lo abbia visitato per non abbandonarlo mai più durante una rappresentazione della Zauberflöte, del flauto magico. Ecco che ritorna questo estremo capolavoro dell'ingegno umano. A commuoverlo in modo particolare fu la scena in cui Tammino, dinanzi al Tempio della ragione, invoca a gran voce consumato da un dubbio che quasi trascolora nella disperazione o notte eterna. Quando finirai? Pamina, Pamina, la fanciulla di cui è innamorato figlia della regina della notte che egli vuole salvare da sarastro, Pamina vive ancora e dall'interno del Tempio una voce gli risponde Pamina lebet noh, Pamina vive ancora. Conclude Bergman da quando vidi quella rappresentazione capì che l'amore esiste, l'amore è reale nel mondo degli uomini, l'amore come la cosa migliore della vita, l'amore come significato segreto del vivere. Sono convinto che un invito alla lettura dell'opera di Bergman non possa nel modo più assoluto prescindere dal flauto magico di Mozart, non solo perché il cineasta svedese ha dedicato a questo capolavoro una scintillante, incantevole versione cinematografica che vi invito a vedere, ma anche perché ha tributato al flauto magico continui moti d'affetto citandolo più volte nel corso dei suoi film. Orbene, ennesima variazione del flauto magico è anche, come penso, Fanny e Alexander. Chi altri è infatti Fanny se non Pamina, colei che dà la mano a Tamino per aiutarla ad affrontare le prove del fuoco e dell'acqua che nel film sono la morte del padre Oscar e il diabolico vescovo Vergerus che diventerà il loro patrigno. E ancora, che altro è la lanterna magica, il rudimentale cinepresa che Alexander riceve in dono la notte di Natale, ed è un episodio strettamente autobiografico di Bergman, se non il flauto magico che le tre dame donano a Tamino, uno strumento fatato capace di creare incantesimi e soprattutto quell'incantesimo per Antonio Mase che è il cinema, il quale è illusione nella duplice accezione della parola, cioè artificio, finzione, anche nascondimento della realtà sotto parole o immagini più favoribili, ma anche come vuole l'etimologia lusus, cioè gioco. E l'uomo, diceva un antico scrittore tedesco, è completamente uomo soltanto quando gioca. Tutto può avvenire, tutto è possibile, è probabile. Allora in questo grande sogno, in questo sogno nebuloso che chiamiamo vite, in cui ammonisce il cartiglio, non c'è posto soltanto per la gioia, la sola realtà certa, ecco in estrema sintesi il magistero bergmaniano, la sola realtà certa è l'amore. Se si è in due, se ci si tiene per mano, per citare alcuni splendidi versi di John Donne, il sole sarà a picco sul nostro capo, noi calpesteremo tutte le ombre e ogni cosa sarà ridotta a coraggiosa chiarezza. Ora penso che la citazione da Strindberg stia alla base anche dell'inedito bergmaniano a cui accennava l'inizio del mio dire e su cui ora verrò a parlare nella seconda ed ultima parte del mio intervento. Chi legge la Lanterna Magica, l'autobiografia di Bergman, si imbatte alla fine in una curiosa pagina che non può non accendere la sua fantasia, la sua curiosità. In essa Bergman racconta di aver ricevuto dalla RAI, siamo nella prima metà degli anni settanta, la proposta di dirigere uno sceneggiato televisivo sulla passione, morte e resurrezione di Cristo. Il soggetto predisposto da Bergman, in tutto sono 16 paginette dattiloscritte, dovete però impressionare troppo i dirigenti della RAI, se è vero che questi, una volta rientrati in Italia, affidarono poi il progetto a Franco Zeffirelli, il quale realizzò, come vi è noto, lo sceneggiato Gesù di Nazareth, che certo è un ottimo prodotto di alta pasticceria viennese, ma che, come penso, con la drammaticità, con la tragicità dei racconti evangelici non ha nulla a che vedere. Ma sentiamo cosa dice lo stesso Bergman nella sua pagina autobiografica. La televisione italiana voleva fare un film sulla vita di Gesù. Potenti finanziatori sostenevano il progetto. Una delegazione formata da cinque persone arrivò in Svezia per ordinare il lavoro. Risposi con un piano dettagliato sulle ultime 48 ore di vita del Salvatore. Ogni episodio era incentrato su uno dei personaggi principali del dramma. Pilato e sua moglie. Pietro, il rinnegatore. Maria, la madre di Gesù. Maria di Magdala, il soldato che intrecciò la corona di spine. Simone di Cirene, che portò la croce. Giuda, il traditore. Tutti quanti avevano un episodio in cui l'incontro con il dramma della passione annientava irrimediabilmente la loro realtà e modificava la loro vita. Dissi che volevo girare il film a Forer. Le mura di Visby sarebbero state quelle intorno a Gerusalemme. Il mare che bagna i Raukar sarebbe diventato il lago di Genezareth. Sulla pietrosa collina di Langhammar volevo erigere la croce. Gli italiani lessero, rifletterono e arretrarono in palliditi. Pagarono generosamente e affidarono l'incarico a Franco Zeffirelli. Ne risultò una vita e morte di Gesù come in un bel libro illustrato. Una vera e propria Biblia pauperum. Ecco, è chiaro allora qual era l'idea che tanto spaventò i dirigenti della RAI. Realizzare un film storico sulla passione, morte e resurrezione di Gesù espungendo proprio Gesù, il personaggio principale. L'idea era quella di riflettere su questi eventi abnormi indipendentemente da questioni di fede, proponendo una accurata riflessione psicologica sui personaggi comprimari della passione, morte e resurrezione di Gesù. Insomma, una via specularmente antitetica a quella intrapresa da Franco Zeffirelli. Soggiacente alla scelta di Bergman, non vi è però solo così il vezzo del grande cineasta. Vi è, al contrario, una idea che ha in sé suggestioni enormi dal punto di vista filosofico, estetico e spirituali. La domanda è questa. È possibile dire, mostrare la passione di Cristo. È possibile rappresentare nel significato proprio della parola, rendere presente gli eventi abnormi che si consumarono sulla sommità del Golgotha e cioè la morte, anzi la turpissima mors di Dio, dell'astro incarnato nelle umane tenebre, per dirla con un celebre verso di Ungaretti. Prima di tentare una risposta a queste o simili domande, vediamo come il cinema ha tentato di dire la passione, la morte e la resurrezione di Cristo. Vedremo ora di seguito tre frammenti tratti rispettivamente da Zepession di Gibson, da Come in uno specchio dello stesso Bergman e infine dal capolavoro di Robert Bresson o Isaac Baltazar. Chi ha visto il film di Gibson ricorderà come il regista americano abbia indugiato fino a raggiungere una vera e propria pornografia del dolore sui pattimenti inflitti dalla vile soldataglia romana a Gesù o meglio al corpo di Gesù. Per oltre due ore lo spettatore è costretto a subire passivamente una granola di pugni, lacerazioni, inerbate, flagellate, insulti, umiliazioni di ogni genere. La macchina da presa, travolta da un'autentica libido della vista, mostra con morboso compiacimento lacerazioni, escoriazioni, ecchimosi, fiotti di sangue, sputi. Insomma, Gibson si dimostra un eccellente ma perverso contabile dei patimenti umani. Il limite, ed è un limite gravissimo e non scusabile, imperdonabile, è quello di aver realizzato un film in cui la redenzione è completamente assente. Dunque The Passion è un film che più antitragico non potrebbe essere. E su The Passion basta questo. Agli antipodi di Gibson si collocano, e qui entriamo in più spirabile aere, Bergman e Bresson. Il secondo filmato è tratto da come in uno specchio, finché vinse il premio Oscar come miglior film straniero nel 1964, è a mio avviso uno dei vertici dell'opera bergmaniana. Il filmato segue immediatamente la scena, trattata con estrema pudicizia, dell'incesto tra l'adolescente Minus e sua sorella Karin all'interno del relitto di una nave. Ora, il dolore che artiglia fino a quasi a soffocarli questi due poveri naufraghi, esseri alla deriva, è detto da Bergman attraverso una sequenza studiatissima che riprende uno dei soggetti più sfruttati nella iconografia cristiana, vale a dire la deposizione e il compianto sul corpo morto di Cristo. Come Maria con Gesù, così Minus sorregge la sorella Karin, dunque abbiamo una sorta di pietà invertita. Due assi ai loro piedi, forse l'avrete notato, sono disposti in modo da formare una croce, la quale è illuminata da un fascio di luce che aumenta di intensità, luce che proviene dall'apertura dello scaffo della nave. Il commento musicale, affidato alla sarabanda della suite numero due per violoncello di Johann Sebastian Bach, direi che conferisce alla sequenza l'indiscutibile crisma di una sacra rappresentazione, ma ad un esito ancora superiore, a mio avviso, arriva Bresson, il quale con Hazard Baltazar, fin del 1965, firma non solo il suo capolavoro, ma come penso il film più alto che sia mai stato realizzato sulla passione, morte e risurrezione di Gesù, Gesù che non è minimamente citato nel film e che nel film assume le fattezze di un asinello. E l'asinello insieme all'agnello, e non è un caso che entrambi gli animali compaiono nella sequenza che suggella il film, è uno degli animali messianici per antonomasia. Che accade in questo finale? Baltazar è stato colpito a morte dai proiettili di alcuni contrabbandieri, fuori di metafora colpito dai peccatamondi. si trascina su un verde pascolo montano, e qui è impossibile non andare con la mente a quel celebre salmo che inizi il Signore, il mio pastore, su verdi pascoli mi fa riposare, e qui sulle note dell'andantino della sonata numero 20 di Franz Schubert, come si legge nell'Evangelo, reclinato capite, spiritum emisit. Mi pare che il film di Bresson sia una straordinaria, acutissima, profondissima esegesi di quel passo evangelico di Giovanni in cui Gesù, siamo nell'ultima cena, dice quando sarò elevato da terra, cioè quando sarò crucifisso, attirerò tutti a me. Baltazar muore, ma ecco che la tristezza si trasforma nel giubilo della risurrezione. Infatti l'asinello è circondato da un greggio di pecore, chiaro simbolo del popolo di Dio, di un'umanità finalmente redenta, greggio che sembra quasi uscire dal suo corpo, che sembra quasi rigenerato dalle piaghe del suo corpo. Isaia dice grazie alle sue piaghe noi siamo stati sanati. Dunque, e mi avvio davvero alla conclusione, quale lezione si può trarre da questi filmati e dallo script di Bergman che ho richiamato così sia pure in tono corsivo. Dunque, prima di tutto che qualsiasi tentativo di dire, mostrare, rappresentare la passione, morte e risurrezione di Cristo è destinato a un sicuro insuccesso. Nessuna arte, per quanto alta essa sia, potrà mai dire l'insondabile mistero che è accaduto sul Golgotha. Certo, potrà farlo, ma per analogia, come fa Bergman, o ricorrendo ad un simbolo, l'asinello, come fa Bresson, ma ogni passione che noi andiamo a rappresentare sarà sempre quella di un essere umano o animale, non importa, ma mai di Dio. Poiché dunque, e davvero concludo, è indicibile e non ineffabile, una cosa indicibile quando proprio non si può dire ineffabile quando si può dire ma mai compiutamente, poiché dunque è totalmente, assolutamente indicibile, la passione e la morte di Cristo possono essere oggetto soltanto di una infinita, diuturna, continua, spesso dolorosa interrogazione. La stessa interrogazione che nello script di Bergman, speriamo davvero di poterlo pubblicare, la stessa interrogazione, dicevo, che nello script di Bergman consuma i personaggi che assistono a quegli eventi abnormi, e cioè Maria, madre di Gesù e Maria di Magdala, il centurione Rufus e Caifa, Pilato e sua moglie Livia, tutti sembrano insomma finalmente prendere sul serio una domanda che Gesù quando era vivo poneva a tutti coloro ai quali parlava, cioè ma voi chi dite che io sia? E tutti si interrogano, si interrogano indipendentemente dall'esito cui conduce la loro riflessione, si interrogano su un uomo che aveva parlato come mai nessun altro, un uomo dalla cui bocca usciva, si dice l'Evangelista Giovanni, uno scleros logos, cioè un durus sermo, un linguaggio duro, difficile, aspro da capire, ma che pur infiammava i cuori e accendeva i sogni più belli. Allora, se nessun logos, nessuna parola può essere d'aiuto, se le parole non possono far altro che balbettare dinanzi al mistero dei misteri, forse la musica può soccorrere e non è un caso che tanto Bergman quanto Bresson abbiano utilizzato delle partiture musicali per dire ciò che le immagini altrimenti non riuscirebbero a dire. Anche se lo script di Bergman tace a riguardo, sono tuttavia convinto che il regista, se avesse davvero realizzato il suo film, avrebbe senz'altro messo a partito molta splendida musica e soprattutto quella musica assoluta che è il silenzio. Il silenzio non è assenza di verbo, ma origine e fonte di tutte le parole. Il silenzio è il luogo che custodisce ciò che non può essere espresso a parole, dunque il silenzio è quasi l'estremo rifugio dell'amore. Il luogo, soprattutto, il silenzio, il luogo dove si riassume, dove si rifugia la domanda per antonomasia, la domanda di tutte le domande, la più importante, la stessa che a Sansepolcro, Piero della Francesca, sembra quasi porre sul volto di Cristo, del Cristo risorto, un volto severo, attraversato da una mestizia insondabile. La domanda è questa, ma voi, anzi tu, credi davvero a quello che stai vedendo? Grazie per la vostra attenzione.